Ben trovati spettatrici e spettatori di Noi TV, apriamo questa edizione del Tg Giorno con un viaggio nelle ville storiche del nostro territorio perché si è celebrata in tutta Italia la giornata delle dimore storiche e noi partiamo con quelle di Lucca. La ricchezza del parco, della natura, del silenzio sono impareggiabili, l'eleganza della villa, del giardino c'è poco da dire. Un'occasione rara e gratuita per scoprire gli scrigni dell'arte della Lucchesia. Qui siamo a Villa Torrigiani a Camigliano ma erano 12 le ville e i giardini privati del territorio ad aver aperto le porte al pubblico in occasione della 14esima giornata nazionale delle dimore storiche. L'obiettivo è stato quello di permettere ai visitatori di toccare con mano i progetti dei grandi architetti del passato per sensibilizzare la società sul ruolo di beni culturali che definiscono la qualità e la bellezza del paesaggio in cui si inseriscono. E la risposta c'è stata. La media dell'intera giornata è stata di più di una cinquantina di visitatori all'ora. L'afflusso ha iniziato ad intensificarsi nelle prime ore del pomeriggio. L'iniziativa ha incentivato un turismo di qualità contribuendo ad attirare cittadini ma anche diversi turisti curiosi e consapevoli. Per un ricordo perché qui mi sono fatto le foto per il matrimonio che si è svolto 34 anni fa. E se che mi piaceva rivedere il posto ho approfittato della giornata che è una bella giornata e visitare questa villa. E oggi poi la giornata dell'Alzi consente anche l'ingresso libero e quindi per le bimbe penso sia una cosa meravigliosa. All'esterno della villa, sul muro della cappella, sono due epigrafi. Una ricorda la gente del paese morta nella prima guerra mondiale. L'altra ricorda la Marchesa Torrigiani che era infermiera volontaria nell'ospedale militare di Firenze dopo Caporetto e morì lì contagiata perché lavorava nel reparto infettivi, dei militari feriti infettivi. Ecco, sono anche questi aspetti che fanno parte della nostra storia. Porti aperte anche nelle ville della Versiglia. Vediamo insieme. Ci fa tanto piacere far conoscere, come dico sempre e mi ripeto, l'altra Versiglia. Poi quello che mi manda avanti, che mi dà soddisfazione è vedere la gioia delle persone che anche se del posto, ma non tutte sono del posto, vedono e scoprono luoghi dove magari ci sono passati e non hanno prestato l'attenzione. Luoghi dove non hanno prestato l'attenzione. È quello di mettere in risalto proprio questi luoghi lo scopo della giornata nazionale delle dimore storiche in Versiglia, organizzata dall'Associazione Dimore Storiche e dall'Associazione Culturale Villa Borbone che oltre ad aprire a visite guidate la villa immersa nella pineta del Viale dei Tigli e l'altra meta tradizionale, Villa Orlando a Torre del Lago, quest'anno ha voluto coinvolgere anche un'altra dimora privata, la fattoria borbonica La Verdina Camaiore. Sì, cerchiamo sempre di dare qualcosa di diverso perché sono talmente tante poi le dimore sul territorio che meritano la nostra attenzione che quest'anno ne abbiamo aggiunta una su Camaiore che però ha un senso perché è una fattoria borbonica e quindi è legata alla Villa Borbone. Villa Borbone, fresca delle celebrazioni per il bicentenario della morte di Maria Luisa e che a breve ospiterà un nuovo evento in occasione del 7 giugno, giorno in cui la sovrana elevò al rango di città a Viareggio. Faremo un incontro sulla marina di Viareggio parlando della navigazione e parlando proprio anche del regolamento che istituì Maria Luisa. Questo proprio per accentuare questo aspetto importante che nel bene e nel male ha caratterizzato questa figura di donna, mi interessa molto anche il lato femminile di questi personaggi che hanno abitato queste ville. Dalle ville passiamo alle scuole perché si sono conclusi i lavori di messa in sicurezza della struttura di Diecimo. Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione del complesso scolastico di Diecimo che hanno messo in sicurezza l'edificio che ospita bambini e ragazzi della scuola dell'infanzia e della primaria della frazione. Una struttura moderna e sicura dunque, inaugurata al termine dei lavori durati circa 18 mesi. Gli interventi avviati nel novembre 2022 hanno portato alla realizzazione di un plesso scolastico conforme alle normative antisismiche. Il costo complessivo dell'opera monta a 1,5 milioni di euro di cui 950 mila finanziati dalla regione toscana attraverso il bando prevenzione sismica. L'aumento dei costi inizialmente previsti a 1,1 milioni di euro è stato dovuto alla necessità di adeguare l'edificio a una classe di rischio più elevata, considerato anche il suo ruolo come centro di ricovero in caso di calamità naturali, in conformità con il piano intercomunale di protezione civile. Festa grande a Serravezza per la nuova ambulanza della misericordia. È frutto della generosità di un confratello che ha voluto rimanere anonimo ed è stata intitolata Roberto Sacchelli, storico volontario dell'associazione recentemente scomparso, la nuovissima ambulanza in dotazione alla misericordia di Serravezza. Il nuovo mezzo è stato inaugurato con una festosa cerimonia presso la chiesa della Santissima Annunziata. Un nuovo mezzo per la misericordia di Serravezza che già dai prossimi giorni entrerà in servizio per quanto riguarda l'emergenza territoriale. È un mezzo che ha tutti i presidi sanitari all'avanguardia e ci darà soddisfazione per essere più performanti ancora in questo servizio che ormai svolgiamo da tanti anni. L'inaugurazione del mezzo coincide con l'insediamento del nuovo direttivo della misericordia. L'obiettivo è ripristinare il servizio di emergenza urgenza 7 giorni su 7, 12 ore al giorno. L'obiettivo è quello di portare il distretto che stiamo gestendo per l'Asla a diventare insieme all'Asla una casa di comunità con tutti i servizi necessari alla popolazione di Serravezza. L'obiettivo è di dotare la misericordia di un gruppo volontari molto nutrito e florido per cercare di soddisfare tutte le esigenze delle persone bisognose del territorio. E dopo l'inaugurazione festa per tutti con tanto di corteo per le strade del centro e pranzo a base di tordelli offerto da Proloco. E adesso andiamo a Casoli per la settima edizione di Sgraffiti. Casoli, piccolo borgo sulle colline di Camaiore, è tornata ad ospitare per il 17esimo anno la manifestazione dedicata agli Sgraffiti, le opere che, dal 2006, compongono una sorta di album di famiglia sui muri delle case e lungo le strette stradine del paese. Soggetti principali delle rappresentazioni sono infatti i personaggi del passato, i Casolini che hanno fatto la storia del paese, come nel caso dell'opera di Mariano Bottoli, a cui ha affidato il ritratto di Felicina, storica venditrice di panni. La signora Felicina Moriconi, che ha fatto la venditrice di stoffe, andava in giro col suo cesso sulle montagne in paese a vendere le stoffe alle persone che vivevano qui. E ve l'ha chiesto proprio la figlia che abita qua? Sì, sì, la figlia che ieri quando è uscita ha visto il viso della mamma, si è commossa. Impegnato in questa edizione, anche il direttore artistico della manifestazione, Franco Pagliarulo, che ha voluto rendere omaggio ad Emilio, sulla parete della sua abitazione accanto al bar La Frana, poco fuori dal centro del paese. E qui è rappresentato il Palio dei Rioni. I personaggi più importanti sono, appunto, come dicevo, l'omaggio a Emilio, perché era un bravissimo sportivo, però purtroppo per un incidente, ora è su una sedia a rotelle e vive in questa casa qui, su cui sto facendo il graffito. Pagliarulo ha voluto invitare a questa edizione degli sgraffiti anche un'artista messicana, Kimberly Barbara, il Messico ha infatti una lunga tradizione, di artisti murali. L'evento è organizzato dal Comitato Casoli Paese degli Sgraffiti, con la collaborazione e il contributo economico del Comune di Camaiore. È tutto per la cronaca, amare, state con noi perché adesso c'è il Tg Sport. È tutto per la cronaca, amare, state con noi perché adesso c'è il Tg Sport.